Ed eccoci qua, nuovissima opportunità di guadagno, un progetto molto interessante. Oggi vi farò vedere esattamente come prendere 2000 crypto gratis di questa criptomoneta ad altissimo potenziale e da un valore di circa 3 euro nel vostro portafogli e già listata e già ovviamente garantita come criptomoneta, bisogna vedere poi nel futuro. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti e per i prossimi video sul guadagno e lasciate un mi piace se volete supportare il mio lavoro. Detto questo andiamo a analizzare oggi l'azienda, comunque il sito web in questione, la criptomoneta ad altissimo potenziale e andiamo a prendere questo hydro totalmente gratuito, questi 3 euro più o meno gratis. Allora, il sito questione si chiama safecaptoken.org ragazzi, è una criptomoneta basata sulla blockchain, sulla Binance Smart Chain, è una piattaforma di livello aziendale incentrata su servizi che offre media di versione sulla blockchain, quindi user planning. Prosti, comunque vi ricordo sempre un progetto nuovissimo, prossimamente, prossimamente, fanno esattamente il loro swap, quindi potreste scambiarlo attraverso lo swap loro predefinito, qui ci sono tutte le informazioni, perché scegliere noi, questa è la roadmap, il progetto ovviamente è iniziato da poco, da qualche mese, nel 2021, c'è la lancia, la creazione del token, l'ho già fatto, un high drop lo stanno facendo più o meno, qui c'è la quotazione, lo scambio sulla token o sullo scambio su 8bit, quindi praticamente può essere scambiato su questi due exchange, nel 2021 faranno il lancio della reward e tutto il resto, quindi diciamo che a fine dicembre dovrebbe essere lanciato più o meno il tutto, attualmente siamo in una fase quasi ultima e ultima, ok? Questa è la loro carta bianca, questi sono i principali exchange che dovrebbero arrivare ben presto, questo troverete tutto il contratto, la fornitura qua, ve lo faccio vedere anche dopo, allora ragazzi, questo è il sito web in questione, andiamo a vedere la criptomoneta, la criptomoneta è già listata anche, cioè già listata sui vari exchange, quindi sono listati attraverso la token, 8bit che è quello ovviamente che conosco, che vi consiglio, eh, listata anche su questi due exchange che non conosco, XTLB Bank, conosco solamente questi due, comunque la criptomoneta in questione ne danno, e attualmente vale 0.007 euro, se andiamo a vedere la panoramia del mercato, la criptomoneta è nata esattamente, andiamo a vedere all, la criptomoneta è nata esattamente il 7 2021, quindi, c'eravate mai manazza per i quali in giugno a luglio, ma dal luglio è nata la criptomoneta, valeva esattamente 2 centesimi, ora si è abbassata un po', però ancora deve essere sviluppata a modo, però potrebbe avere un altissimo potenziale nel futuro, ovviamente non è un progetto, come posso dire, non è un progetto fatto benissimo, un progetto che è ancora in fase di sviluppo, vedremo nel futuro, intanto vediamolo totalmente gratis, a questo attualmente il loro valore, qui trovate tutti i referral link, trovate tutte le descrizioni, comunque andiamo a vedere come prende questo app, link a descrizione qui in basso, attraverso il mio link riceverete questa pagina, link a descrizione qui in basso, link a descrizione che lo trovate sul gruppo Telegram, attraverso il mio link riceverete questo bot di Telegram totalmente gratuita, ok, questo ragazzi il bot di Telegram molto semplicemente ci dice esattamente ragazzi che mi danno esattamente 2.000 SFC totalmente gratis, che corrispondono più o meno a 3 dollari attualmente, ok, qui sono varie exchange listati come vedete, sono varie exchange con i vari iDrop, attualmente ragazzi l'iDrop vi verrà dato esattamente il 30 novembre, quindi fra un mesetto l'iDrop sarà distribuito a 5.000 partecipanti, ok, provvisoriamente qui dice il 12 agosto saranno distribuito, comunque bisogna vedere eccetera, per i top 100 reference vincono 5.000 ref e tutto il resto, comunque andiamo a vedere come si fa, molto semplice ragazzi, andiamo a followare comunque fate donne, ok, molto semplicemente ragazzi qui vogliono entrare sul loro gruppo Telegram, quindi iniziamo con il loro gruppo Telegram ovviamente è facile, safe, fate join, come sempre, qua, qui bisogna ricaricare, dove sta? Ok, fate donne e siamo a posto, prima cosa, poi qui ci dice di followare sul loro canale Telegram, quindi facciamo direttamente da qua, si join, torniamo indietro, e siamo a posto, quindi giornate su tutte e due le loro canale, ah no please follower, twitter page, retweet, post, enter, ok, qui vogliono esattamente che retweetate questo post qua, quindi questo è il retweet del post, no, sì, andiamo sì, questo è il retweet del post ragazzi, dovete retweetare, quindi andate qui in basso, fate 4 retweet, retweetate a qualcuno, le retweetiamo a Elon Musk, comunque anche non importa nulla, poi fate tweet, siamo a posto, ovviamente followate anche, una volta fatto questo, loro vogliono il vostro nome, quindi andate sul vostro profilo, copiate e incollate questo nome, la chiaccia qua, lo mettete e siamo a posto, ok, fate donne, no, questo non si è fatto, mi sono saltato una pagina, comunque ragazzi dovete followare ovviamente la loro pagina, è una molto semplice, ok, una volta followata anche quell'altra, all'ultima pagina dovete mettere il vostro contatto, smart chain BP20, quindi come sempre andate nella sezione, balance smart chain di trust wallet, metamask e quelli che supportano, sezione ricevere, copiate e incollate, l'indirizzo di balance smart chain, intanto ormai so benissimo, lo sapete fare almeno il 90% di voi, ogni volta lo faccio vedere per quelli nuovi, lo copiate e lo incollate, ciò lo mettete e siete a posto, attualmente ragazzi ci dice esattamente, che ho invitato a 0 persone, hai guadagnato 2016 in modo totalmente gratuito, più persone porti più guadagno, questo è il contratto, il bilancio ragazzi, ah, il bilancio sarà stimato entro le 6 ore, quindi entro le 6 ore vi hanno accreditati questi pagina, per ogni persona che porti hai un punto, più punti fai e più che ti diventi sopra la pagina, ragazzi, molto easy, rifresciamo un secondo, ovviamente sono sul gruppo telegram che non va molto bene, questo è quanto, c'è il gruppo normale, allora cosa fare una volta che avete il token tutto il resto, questa pagina ufficiale, dovete andare in questa sezione qua, quindi andare su coin market, andare a sezione balance smart chain, questa sezione qui, trovate l'indirizzo, quindi pigiate qua, trovate l'indirizzo, questo è l'indirizzo, copiate, questo è l'indirizzo qua, lo copiate in alto a destra su Trust Wallet o comunque su Metamask, e siete a posto ragazzi, ok, grazie per aver seguito, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrizione e campanella, cosa più importante ragazzi, è un progetto ancora in fase di sviluppo a Morino, è vero che già listata, ma non è un progetto altamente consigliato a investire, quindi non investite mai su questi progetti, prendete solamente in modo gratuito, perché potrebbe risultare nel periodo progetti scano, anche se è listato ragazzi, quindi mi raccomando, non investite mai su questi progetti, fino a che quando siete sicuri al 100%, con il progetto andando a buon fine, e tutto il resto. Grazie per aver seguito, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrizione e campanella per il suo colpere, ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!